Rieccoci qui da Palazzo Mezzanotte in occasione dell'IE5G Forum organizzato dalle fonti. Sono qui in compagnia di Gabriele Elia che è responsabile Standard Technology Communication e IPR, ovvero Intellectual Property Rights di TIM. Innanzitutto grazie per essere qui con noi. Anticipiamo un po' quelli che saranno i contenuti anche del suo intervento, ovvero il ruolo rivoluzionario del 5G per quanto riguarda l'ambito del Smart Manufacturing. Spieghiamo un po' ai nostri telespettatori di cosa si tratta. Il 5G è considerata una delle tecnologie abilitanti e chiave nello sviluppo dello Smart Manufacturing perché Smart Manufacturing significa digitalizzazione, utilizzo dei dati, dei sensori, relazioni diverse nella value chain e il 5G che porta in fabbrica, nell'ambiente di manufacturing, da un lato delle prestazioni di rete eccellenti con grande banda, bassissima latenza, la bassa latenza per esempio è importante per il controllo di processi, per la gestione di sistemi automatici. Insieme a queste prestazioni porta una grande flessibilità di reconfigurazione, semplicità di organizzazione degli spazi che invece le reti cablate necessariamente portano in maniera diversa, ma porta anche tanta sicurezza, sia sicurezza in termini di sicurezza intrinseca del funzionamento della rete, sia la possibilità di mantenere puramente una rete gestita dall'operatore, una rete quindi con le caratteristiche di affidabilità delle grandi reti, mantenere localmente in fabbrica o nell'ambiente della manifattura. I dati che sono spiegati su questi server che sono in tanti contesti un fattore anche di competitivo, di riservatezza e di un'esigenza quindi delle aziende. Quindi questa flessibilità insieme alle prestazioni, insieme ai livelli di efficienza, prima non possibili con le reti più tradizionali, mette un po' insieme il meglio delle reti pubbliche con le esigenze specifiche di un mondo così particolare come quella dell'industria. In questo senso un po' in tutto il mondo viene considerato un fattore strategico di competitività la possibilità di adottare progressivamente soluzioni 5G negli ambienti di manufacturing sia in Nord America che in Asia e anche in tutta Europa e l'Italia che è il secondo paese manufatturiero in Europa ha sicuramente anche dell'eccellenza su 5G da esprimere nel contesto del manufacturing. Un'eccellenza che, restando sempre in ambito industriale, Team sta cercando di implementare attraverso un ruolo particolare, proprio come partner all'interno dei competence center proprio legati a Industria 4.0. Ecco, che ruolo a Team in tutto questo? Team ha iniziato fin dalla nascita delle idee iniziali della necessità di sviluppare una soluzione come il 5G per la tradizione che abbiamo del nostro centro anche di competenza, il centro di ricerca di Torino, a lavorare fin dalla nascita delle specifiche necessarie per il contesto industriale. Nel 2017 abbiamo firmato i primi accordi per poter incominciare a sperimentare tecnologie 5G nelle fabbriche, abbiamo iniziato un accordo che ha portato a soluzioni per esempio nelle fabbriche di linee pilota di Comau insieme ad Ericsson e abbiamo continuato su questa strada portando sia esperienza di controllo di processi o controllo di device attraverso la rete 5G con la bassa latenza, sia soluzioni di manutenzione remota assistita da tecnici che usano tecniche di virtual reality e che quindi sono dotati di device di virtual reality ma che agiscono direttamente sugli apparati di fabbrica per la manutenzione guidati o inassistiti anche da persone specializzate che magari stanno in un'area più remota. E poi siamo in fase di sviluppo e di elaborazione di ulteriori soluzioni che saranno annunciate a breve con anche altri partner. La rete 5G è molto nuova, il servizio commerciale è stato lanciato pochissimi mesi fa e quindi queste sperimentazioni contiamo che rapidamente potranno diventare un fattore competitivo. In questo senso, team anche presente in 5 dei competence center dell'industria 4.0 voluti dal Ministero dello Sviluppo Economico con un processo complesso che ha riguardato la preparazione delle proposte che sono state valutate e giudicate. Team è presente a Torino, a Padova, a Bologna, a Roma, a Napoli nei centri di competenza, come detto, dove portiamo sia l'esperienza dei dati e dell'IoT ma anche tantissimo l'esperienza del 5G come un fattore competitivo. I centri di competenza per l'industria 4.0 dovranno aiutare soprattutto le aziende più piccole con l'aiuto del contesto universitario, del contesto industriale e degli specializzati a introdurre in azienda le tecnologie dell'industria 4.0 e in generale le tecnologie che riguardano la trasformazione digitale. E' importante che il 5G sia in questi centri di competenza come un asset che viene dato anche a disposizione per la sperimentazione in questi centri che sono dei veri e propri spazi fisici dove si costruiranno delle linee di manufacturing sperimentali. E noi contiamo di raccontare anche tutte queste evoluzioni, magari invitandola anche nei nostri studi televisivi per continuare a parlarne perché sicuramente la rivoluzione 5G è solo all'inizio. Grazie ancora Gabriele Elia per essere stato qui con noi, non mi resta che accedere la linea allo studio. Grazie.